Ciao a tutti, buon lunedì! Come state? Dunque premetto subitissimo che ho un nuovo microfono come potete vedere. Molti di voi mi hanno consigliato di cambiare microfono e di usare uno di questi perché si sentiva un po' l'eco e vi ringrazio tantissimo perché è proprio il tipo di consigli di cui ho bisogno. Sono veramente negata con questo genere di cose quindi vi ho ascoltati e ecco qua. Quindi spero si senta bene, fatemelo sapere per favore. Ma veniamo noi bentornati sul mio canale o se siete nuovi benvenuti. Il mio nome è Lisa e ogni lunedì mi siedo qua con voi e vi racconto una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata. La scorsa settimana abbiamo parlato di Suzanne von Richthofen e vogliamo veramente ignorare il fatto che lei stessa mi ha lasciato un commento? Ok lo so, lo so che è un profilo fake, che lei è in prigione. Vero? Vero che è in prigione? No perché ho letto questo commento alle tre di notte e devo ammettere che mi ha un po' inquietata. Ma comunque spero che Suzanne si sia iscritta al mio canale, spero che voi vi siete iscritti al mio canale. Se non l'avete fatto, fatelo adesso e seguitemi anche su Instagram perché a volte faccio degli annunci o vi chiedo delle cose, mi piace che mi rispondiate, quindi seguitemi anche su Instagram. Ma iniziamo subito con il caso di oggi. Oggi parliamo della storia di Emma Walker. Emma Jane Walker è una bellissima ragazza nata il 20 maggio del 2000 in Tennessee in America. È cresciuta in una piccola cittadina subito fuori in Knoxville. Una cittadina ai piedi di una montagna, uno di quei paesi in cui tutti conoscono tutti. I genitori di Emma sono Mark e Jill Walker e Emma ha anche un fratello di nome Evan. Emma viene descritta come una ragazza estremamente dolce, super solare, amica di tutti, estremamente generosa, una bellissima persona. Tutti avevano una bellissima opinione di lei ed era la classica persona che aveva tantissimi amici e andava semplicemente d'accordo con tutte le persone che incontrava. Il suo sogno era di diventare un'infermiera, ma non un'infermiera qualunque, voleva diventare un'infermiera neonatale. Voleva lavorare con i bambini nati prematuri o i bambini in terapia intensiva. Quindi penso che già solo questo suo sogno nel cassetto dica davvero tanto su di lei, aveva un cuore veramente grande, era una persona estremamente altruista. Faceva tantissimo volontariato, soprattutto in un canile, e faceva anche danza e cheerleading ed era molto molto brava. Ha iniziato il liceo nel 2014 e ha fatto subito il provino per entrare nella squadra delle cheerleader. Ed è stata la prima e unica ragazza così giovane, la prima ragazza del primo anno ad essere riuscita ad entrare nella squadra delle cheerleader. Prima non era mai successa questa cosa. Era anche molto brava a scuola in generale, era sempre stata la prima della sua classe. E durante il primo anno di liceo conosce un ragazzo di nome Riley. Riley era più grande di Emma di due anni e faceva parte della squadra di football della scuola. Fin qui sembra veramente la classica storia di qualsiasi telefilm americano che possiamo mai aver visto in televisione, no? Lo so. Riley era un ragazzo molto religioso, molto attivo nella sua chiesa ed era anche lui uno studente modello. I suoi amici dicono di lui che crescendo era un po' un nerd, appassionatissimo di Star Wars. Ma poi crescendo ha iniziato a giocare a football e ha notato che era molto bravo, si è fatto notare, quindi ha avuto sempre più successo all'interno della squadra di football ed è diventato diciamo il ragazzo popolare della scuola. Emma si prende subito una grossa cotta per Riley, ma al momento Riley stava uscendo con un'altra ragazza. Ma non passa molto tempo prima che Riley decide di rompere con quella ragazza per iniziare a uscire con Emma. La loro relazione inizia e va a gonfie vele, soprattutto perché sono appunto il classico cliché nel mondo ideale del liceo, la cheerleader che esce con il giocatore di football, tutti e due molto belli, sembravano la coppia perfetta. Una cosa strana che Riley fa è che nonostante avesse rotto con la ragazza con cui usciva prima per stare con Emma, decide comunque di portarla al ballo con lui, perché gliel'aveva promesso. Ora, se abbiamo guardato anche solo un film americano, in tv sappiamo tutti quanto il ballo scolastico sia importante per questi teenager e nella vita reale è davvero così. Quindi immaginate Riley è fidanzato con Emma, ma ha comunque promesso alla sua ex fidanzata di andare al ballo con lui e lo fa. Chiaramente questa non è stata una cosa molto carina da fare nei confronti di Emma e i suoi genitori iniziano a preoccuparsi un po', perché a quanto pare Riley non riusciva a dare la giusta priorità a Emma e quindi i genitori di Emma erano preoccupati che magari un giorno avrebbe potuto spezzarle il cuore. Hanno provato a parlarne con lei, ma vi ricordate nel video precedente anche ne abbiamo parlato di quanto una ragazza teenager innamorata può essere testarda. Emma era una ragazza molto indipendente e intelligente, le piaceva prendere le decisioni con la propria testa, quindi chiaramente ha deciso di ignorare le preoccupazioni dei genitori e continuare comunque a stare con Riley. Quindi cosa stiamo imparando da questi video? Ascoltate sempre i vostri genitori, io non li ascoltavo mai. Comunque insomma da quel momento nella famiglia di Emma ogni volta che veniva fuori il discorso Riley c'era un po' di tensione, ma dopo poco tempo questa coppia perfetta è scoppiata. Emma e Riley iniziano a lasciarsi e riprendersi, diventa un po' un tira e molla. Gli amici di Emma esprimono anche loro la loro preoccupazione nei confronti di Riley perché dicono che non si era mai interessato di volerli conoscere. Normalmente se stai con una persona hai interesse nel conoscere i suoi amici e di uscire con loro. Invece Riley pare che non gli fregasse niente e per gli amici di Emma questa era una cosa un po' strana. Non voleva avere niente a che fare con gli amici di Emma e non voleva neanche che Emma avesse niente a che fare con i suoi amici. Piano piano ha iniziato a diventare sempre più possessivo e sempre più geloso. Ha iniziato a non volere che Emma indossasse un certo tipo di indumenti. Emma aveva un piccolo lavoretto part time. Quando andava a lavoro Riley passava tutto il tempo lì sul suo posto di lavoro per ore e ore aspettando che lei finisse il turno e quando Emma usciva con le sue amiche senza di lui, lui la tempestava di chiamate, di messaggi, voleva sapere tutto quello che faceva. Quando lo faceva, dov'era in ogni momento, era diventato sempre più possessivo e cercava sempre di più di controllarla. E questa cosa è un campanello d'allarme in ogni relazione, ok? Ma specialmente in una relazione tra due ragazzi così giovani e chiaramente i genitori di lei erano davvero preoccupati. Non era una relazione sana. Ad un certo punto Riley ha iniziato a mandare a Emma su Snapchat dei messaggi sempre più aggressivi e quando litigavano, quando facevano questo tira e molla, Riley spesso e volentieri ha iniziato a minacciare Emma che si sarebbe tolto la vita se lei non fosse tornata con lui. E sono entrati in quel classico circolo malsano in cui litigavano violentemente, si dicevano le cose più terribili del mondo per poi fare pace, tornare insieme come se niente fosse successo. E poi ovviamente tutto si ripeteva da capo. I genitori di Emma volevano davvero tanto che questa relazione finisse. Quindi hanno provato a proibire a Riley di venire in casa loro e hanno anche provato a prendere il cellulare a Emma in modo tale da provare a controllare le loro conversazioni, provare a non farli comunicare più di tanto, nella speranza che così si sarebbero allontanati. Ma i teenager sanno essere molto intelligenti. Riley regala un iPod Touch a Emma che a quanto pare aveva la funzione di mandarsi dei messaggi. I genitori non lo sapevano, quindi loro due hanno comunque continuato a sentirsi. Dopo essere stati insieme in questo modo un po' tira in molla per due anni, Riley si diploma e va al college. E la sua nuova scuola distava circa mezz'ora da Emma. E i genitori erano contenti che comunque c'era un po' più di separazione tra i due, ma chiaramente non era abbastanza. Ed Emma e Riley hanno deciso di rimanere insieme nonostante non andassero più nella stessa scuola. A quel punto i genitori di Emma le hanno proibito di parlare con lui completamente. Ma ovviamente i due continuavano a sentirsi, trovavano sempre il modo di sentirsi e a quel punto i genitori di Emma erano disperati. Non sapevano più come fermare questa relazione, che vedevano chiaramente che non stava facendo bene a loro figlia. Avevano una fortissima sensazione che c'era qualcosa che non andava in questo Riley e allora le hanno provate veramente tutte e alla fine hanno proibito a Emma di uscire di casa. Praticamente le era permesso solo di andare a scuola e andare a lezioni di cheerleading e tornare a casa. E hanno notato in realtà che questa cosa stava funzionando. Perché Emma stava ricominciando piano piano a sembrare sempre più se stessa, la sua vecchia se stessa. Sembrava un po' più felice, sembrava un po' più leggera e spensierata, come i suoi genitori non la vedevano più da tempo. Ma ad un certo punto le cose precipitano. Subito prima delle feste per il giorno del ringraziamento, Emma vede su Snapchat delle foto di Riley insieme ad altre ragazze che andavano nel suo stesso college. E questa cosa l'ha fatta stare veramente male. E quindi decide di tagliare i ponti con lui definitivamente. Ha finalmente deciso che meritava di meglio. Soprattutto se lui le stava mancando di rispetto in questo modo e non era neanche capace di non farsi foto con altre ragazze e chissà cos'altro e postarle sui social. Chiaramente i genitori di Emma erano estremamente felici che lei avesse preso questa decisione e sentivano che questa era la volta buona. Sentivano che questa era la decisione definitiva di Emma. Sentivano che potevano finalmente riavere la loro vecchia Emma. Ma Riley non ha preso per niente bene la fine di questa storia e subito dopo essere stato lasciato da Emma decide di provare a togliersi la vita bevendo tantissimo e prendendo insieme tantissime pillole. Ma questa cosa per fortuna non ha funzionato e chiaramente la sua famiglia e i suoi amici sono tutti molto preoccupati per lui. Poi il 18 novembre era un venerdì sera e il liceo di Emma aveva appena vinto una partita di football molto importante. Quindi lei ed i suoi amici decidono di andare a una piccola festa che un altro loro amico aveva organizzato a casa sua. E i suoi genitori glielo permettono perché vedono che Emma sta molto meglio e sono sicuri che non parla neanche più con Riley che sia solo una storia vecchia nel passato. Quindi Emma va a questa festa e intorno alle 11 e 30 di sera inizia a ricevere dei messaggi molto inquietanti. E questi messaggi dicevano sono con qualcuno che ami gli farò del male vieni fuori immediatamente se non vuoi vedere questa persona ferita. Quindi ovviamente Emma è molto preoccupata da questo messaggio però pensa anche che ci sia la possibilità che sia uno scherzo da parte di Riley o da parte di qualche amico di Riley. Quindi ignora il messaggio ma dopo poco ne riceve un altro e questo messaggio dice è in un burrone vicino casa sua è un vero peccato che all'improvviso tu non dia più importanza alla vita di una persona. E qui è quando Emma insieme ad un suo amico decidono di uscire e vedere se effettivamente c'è qualcosa di strano oppure no. E quando vanno fuori vedono un uomo sdraiato a faccia in giù di fianco a dei cespugli. E quest'uomo era proprio Riley. Riley si sveglia molto confuso si tira su dicendo che non sapeva cosa era successo e non sapeva dove si trovava né come ci fosse finito. Racconta che qualcuno l'aveva rapito e si teneva la testa dicendo che si sentiva come se qualcuno l'avesse colpito. Emma è molto confusa non sa che cosa fare e la gente che era presente dice che piangeva a dirotto. Riley chiama un suo amico che gli dia un passaggio verso casa e racconta questa storia al suo amico che qualcuno l'ha preso l'ha colpito e l'ha lasciato appunto per terra vicino a questa casa e persino il suo amico non gli crede. Anche Emma pensava che questa storia fosse molto strano aveva una bruttissima sensazione ma voleva solo che Riley la lasciasse finalmente in pace che le permettesse di andare avanti con la sua vita e di essere felice. La mattina dopo intorno alle 10 e un quarto Emma si stava preparando per incontrare sua mamma fare pranzo insieme e poi andare in un posto insieme e all'improvviso qualcuno inizia a bussare molto forte alla porta d'ingresso proprio a dare dei colpi e Emma si trovava in casa da sola al momento quindi si spaventa e finisce per mandare un messaggio a Riley dicendogli che lo odia ma che ha bisogno di lui perché appunto c'è qualcuno alla porta che la sta spaventando e non voleva rimanere da sola. Quindi lui decide di guidare fino a casa sua e quando Emma non si presenta all'appuntamento con sua mamma lei decide di tornare a casa e vedere che cosa era successo e quando arriva lì trova Emma seduta sul marciapiede insieme a Riley che parlavano. Quindi sua madre arriva lì e dice a Riley che se ne deve andare e lui lo fa se ne va. Il giorno dopo era domenica e Emma era ancora un po' scossa da tutti questi avvenimenti strani che erano successi negli ultimi giorni. I messaggi strani, il rapimento di Riley e questa persona che gli bussava la porta violentemente la mattina prima. Era stato tutto molto intenso però piano piano Emma si stava riprendendo e quel giorno lei lavorava e i suoi genitori hanno deciso di accompagnarla a lavoro e andarla a prendere riaccompagnando la casa per essere sicuri che lei stesse bene. Quindi i suoi genitori sono palesemente molto preoccupati per lei e quella sera suo papà porta Emma a prendersi un gelato, rimangono seduti sul marciapiede a chiacchierare, passano una bella serata insieme e suo padre dice che la vedeva più tranquilla. Effettivamente dopo questi episodi strani vedeva che si era riuscita finalmente a rilassare. Quella notte Emma si prepara per andare a letto come ogni sera, suo padre le dà la buonanotte e vanno tutti a dormire. Ma durante la notte suo padre sente un rumore fortissimo che lo sveglie all'improvviso e dice che il rumore era come se ci fosse qualcuno in casa che aveva sbattuto fortissimo una porta. Quindi si sveglia all'improvviso disorientato, non so se vi è mai successo di sentire un rumore molto forte di notte che vi svegliate ma non capite molto bene cosa sta succedendo e poi ne sente un altro ancora. Quindi scende dal letto e corre a vedere se i suoi figli stanno bene e quando apre la porta della camera da letto di Emma vede che lei è nel letto che dorme e non c'è nulla di strano. Quindi suo papà si convince che forse ha sentito questi rumori nella sua testa, forse stava sognando, forse era un rumore che veniva da fuori. Si è dovuto convincere di queste cose perché non c'era nessuna spiegazione. Ma la mattina intorno alle sei i genitori si svegliano e iniziano a prepararsi per la giornata. La madre come ogni mattina va in camera di Emma per svegliarla per andare a scuola e Emma è sempre stata una persona che si sveglia subito quando la chiami. Quindi sua madre ha pensato fosse molto strano che quando ha provato a svegliarla Emma non ha risposto. Quindi ha iniziato a scuoterla un po' cercando di svegliarla ma Emma non si svegliava. Sua madre ha capito che c'era qualcosa che non andava ed è lì che ha deciso di guardarla in viso e ha capito che Emma non aveva polso e chiama immediatamente il numero d'emergenza. I paramedici arrivano molto in fretta e subito pensano che forse questa ragazza si sia tolta la vita o che ci sia stato un incidente durante la notte. Che le fosse successo qualcosa mentre dormiva. E quando quella mattina non si è presentata a scuola le voci subito hanno iniziato a circolare su che cosa potesse esserle successo. E subito Riley ha iniziato a scrivere dei post sui social media su di lei. Emma era una persona talmente amata da tutti che la gente era sconvolta non poteva crederci che non ci fosse più e ci sono state tantissime veglie in suo onore e la gente voleva sapere che cosa era successo. Quindi i detective si presentano in casa dei genitori di Emma e all'inizio appunto pensavano fosse successo qualcosa durante la notte che avesse avuto un malore ma poi hanno notato un buco nel muro esattamente di fianco al letto di Emma e questo buco era molto piccolo e ce n'erano due proprio agli angoli del suo letto ed erano ovviamente fuori di proiettile. E i detective dicono che chiunque avesse sparato quei colpi l'aveva fatto da fuori dalla casa e che doveva essere una persona che conosceva Emma e che sapeva esattamente dove fosse il suo letto. Quindi hanno iniziato subito a indagare tra gli amici di Emma per cercare di capire se c'era qualcuno che poteva volerle fare del male e indovinate qual è il nome che continuava a saltare fuori Riley. Quindi la polizia va subito al dormitorio di Riley per parlargli ma a quel punto non c'era ancora nessuna prova che potesse farlo anche soltanto essere un sospettato della polizia e la sua famiglia e i suoi amici erano molto preoccupati per lui perché comunque aveva da poco cercato di togliersi la vita e adesso la donna della sua vita non c'era più quindi avevano paura che potesse farsi del male. Ma poi uno degli amici di Riley dice alla polizia qualcosa che Riley gli aveva detto il sabato prima che Emma fosse attaccata. A quanto pare Riley aveva detto a questo suo amico di nome Alex che aveva rubato l'arma a suo nonno e l'aveva fatto per proteggersi dopo essere stato rapito e i suoi amici subito erano preoccupati che Riley avesse un'arma con lui perché appunto aveva appena provato a togliersi la vita quindi non erano molto tranquilli ma lui gli ha assicurati che non voleva farsi del male voleva solo proteggersi. Ma il lunedì successivo Riley era già diventato un sospettato della polizia. I detective hanno cominciato a chiedergli che cosa stava facendo la notte in cui Emma è stata attaccata e gli hanno chiesto dove si trovasse quella notte e Riley risponde che era a casa del suo amico Noah e gli hanno chiesto se aveva dormito a casa di questo amico Noah e Riley risponde che non se lo ricorda ma che pensa di sì. Ha risposto sono abbastanza sicuro di sì. Ora uno si ricorda se ha dormito a casa di un suo amico oppure no soprattutto se è successo neanche una settimana prima. Un'altra cosa molto strana che faceva Riley durante l'interrogatorio era non chiamare Emma con il suo nome. Continuava a riferirsi a lei chiamandola quella ragazza. Ora l'abbiamo visto anche nel caso di Chris Watts quando una persona si riferisce alla vittima non chiamandola col suo nome e quindi cercando di distaccarsi è sempre un campanello d'allarme. E per tutto l'interrogatorio Riley è sembrato ai detective molto distaccato e senza nessuna emozione. Riley ha detto che aveva continuato a mandare messaggi a Emma quel weekend ma che lei non gli rispondeva perché lo aveva bloccato e che quindi lui aveva preso il telefono di un suo amico per poterla chiamare per convincerla a tornare di nuovo con lui. Riley dice che poi dopo che lei gli aveva risposto di no e che l'aveva bloccato era talmente turbato che ha lasciato il suo dormitorio e ha iniziato a guidare verso casa dei suoi nonni ed è arrivato lì intorno a mezzanotte e mezza e dice di essere stato lì per soli 45 minuti per poi di nuovo guidare verso il suo dormitorio e dice che a quel punto ha avuto una sorta di crollo emotivo ed è stato seduto nella sua macchina a guardare vecchie foto di lui e Emma piangendo a dirotto. Quindi i poliziotti iniziano a chiedergli delle armi di suo nonno e se sapeva dove le teneva. Gli chiedono anche se ne aveva mai presa una e Riley risponde che non ne aveva mai presa una nella sua vita. Ma la polizia aveva già appunto parlato col suo amico che gli aveva raccontato che non solo Riley gli aveva raccontato di aver rubato l'arma a suo nonno ma che l'aveva anche portata a scuola con lui e gliel'aveva mostrata. Ma Riley nega tutto e dice di non capire perché questo suo amico ha dovuto inventarsi questa storia. E poi il suo amico Noah si fa avanti e dice alla polizia che Riley poco tempo prima gli aveva chiesto se per caso sapeva come si fa a togliere le impronte digitali da qualcosa. E ovviamente Noah gli aveva risposto no. Riley gli aveva detto che era il suo compagno di stanza che voleva saperlo per questo lui lo stava chiedendo. Non è per me è per il mio amico. Ma Noah ovviamente ha pensato che fosse molto strano e quindi l'ha detto subito alla polizia. E appena Riley viene rilasciato dall'interrogatorio manda subito un messaggio al suo amico Noah e gli chiede per che cavolo aveva dovuto raccontare tutte queste cose alla polizia. E il suo amico Noah gli ha fondamentalmente detto che se non aveva niente da nascondere non doveva preoccuparsi di niente. A quel punto anche la mamma di Riley inizia a chiedergli di quest'arma. Dov'era? Se era vero che l'aveva presa e dove l'aveva nascosta. Ma lui continua a negare dicendo che non ce l'ha. Quindi i suoi amici hanno iniziato a fare due più due a dire se questo mente a sua mamma. Noah racconta tutta un'altra storia probabilmente Riley è colpevole. Le cose stavano iniziando ad allinearsi. E poi Riley parla ai suoi amici e gli chiede di non parlare più con la polizia finché lui non riesce a liberarsi di quell'arma perché non voleva essere incriminato per qualcosa che non aveva fatto. Ma siccome Noah e l'altro suo amico erano ormai convinti che Riley fosse colpevole decidono di chiamare la polizia e decidono di collaborare con loro. Decidono di far finta di accettare di aiutare Riley a liberarsi di quest'arma e nel frattempo appunto lavorare segretamente per la polizia perché sapevano che quell'arma era proprio il pezzo del puzzle che mancava per incriminare Riley. Quindi il giorno dopo i due amici vanno a casa di Riley per giocare a dei videogiochi per stare un po' insieme e in realtà stanno indossando un microfono nascosto. Quindi mentre passano il tempo insieme viene fuori il discorso di Emma. Sì. 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 E gli dice anche che vuole che loro, i suoi amici, si rimangino quello che hanno detto alla polizia. Vuole che loro vadano dalla polizia e gli dicano che si erano sbagliati, che al momento degli interrogatori erano in uno stato di ebrezza e non capivano bene cosa stavano dicendo ma che erano tutte bugie. E poi gli dice appunto che vuole che i suoi amici lo aiutino a appunto liberarsi di quest'arma e che voleva liberarsene buttandola in un fiume. E loro ovviamente fingono di accettare. Quindi escono tutti e tre per dirigersi verso questo fiume e sul tragitto si fermano in un fast food per prendere qualcosa da mangiare. E lasciano l'arma in macchina dentro un sacchetto di plastica. E nel frattempo dietro di loro c'erano tutta una serie di macchine della polizia che segretamente li stava seguendo. E uno dei due amici stava anche messaggiando in tempo reale con uno dei poliziotti per fargli sapere che cosa stava succedendo. Quindi a un certo punto arrivano in un parcheggio vicino a questo fiume. Decidono di scendere dalla macchina ed è lì che Riley si mette un paio di guanti e tira fuori questa pistola. Quindi uno dei suoi amici immediatamente scrive alla polizia che quello era il momento giusto, il momento di venire alla macchina. La polizia arriva, gli urla di stare fermi, di mettere le mani in alto. Riley esegue così lo prendono e lo portano in custodia. Mentre perquisiscono la macchina trovano anche un sacco con dentro dei vestiti neri che probabilmente Riley aveva indossato quella notte. E chiaramente pensano anche che fosse lo stesso Riley quel giorno ad aver spaventato Emma bussando in quel modo alla porta di casa sua. Cioè chiaramente palesemente tutti gli eventi strani che erano successi nell'ultimo periodo a Emma erano tutti opera di Riley. Lui non poteva accettare che Emma fosse felice senza di lui ed è purtroppo una cosa molto comune. Nel maggio del 2018 inizia il processo e gli avvocati di Riley sostengono che praticamente è stato Riley a sparare ma che l'intento non era di fare del male a Emma. Lui voleva solo spaventarla. Voleva spaventarla in modo che lei lo avesse chiamato per proteggerla e che forse alla fine sarebbero tornati insieme in questo modo. Ma questa strategia che gli avvocati avevano adottato non ha funzionato perché era chiaro che chi aveva sparato stava mirando al letto di Emma. Sapeva che Emma sarebbe stata in quel punto e che quindi l'obiettivo non era solo di spaventarla ma era di farle del male. Così l'8 maggio del 2018 Riley fu condannato a 50 anni di prigione prima di avere la possibilità di chiedere un appello. Ora questo caso è palesemente una relazione malsana finita malissimo e voglio che sia anche un modo di ricordarci di stare attenti alle persone a cui vogliamo bene. Stare attenti ai segnali che purtroppo sono davvero sempre gli stessi. Le persone in relazioni abusive tendono spesso a isolarsi, ad allontanare tutti gli amici, tendono a uscire sempre e solo con il proprio compagno o compagna e tendono a dovergli chiedere sempre l'autorizzazione per fare delle cose perché hanno delle regole che devono seguire. Ci sono davvero tantissimi altri segnali e non vuol dire che se una relazione presenta uno di questi segnali allora è per forza una relazione abusiva ma avete capito. Facciamo attenzione perché in alcuni casi vuol dire davvero salvare una vita e chi nella sua vita è stato all'interno di una relazione abusiva sa quanto è difficile rendersene conto da dentro e sa quanto sia difficile uscirne. Io per prima sono stata in una relazione davvero abusiva e credetemi che da dentro è davvero complicato perché queste persone spesso sono dei bravissimi manipolatori e spesso ti convincono che sia tu il problema o che comunque è tutto solo nella tua testa e da fuori può sembrare facile e spesso ci ritroviamo a dire come fa questa persona a continuare a stare in questa relazione nonostante sia chiaro che è sbagliata per lei ma se l'avete provato lo sapete quanto è difficile quindi vi chiedo state attenti prendetevi cura delle persone a cui volete bene aiutateli e questa storia è ancora più triste perché i genitori di Emma hanno davvero fatto qualsiasi cosa nel loro potere per proteggere la loro figlia ma non è bastato e sono sicura che non avevano idea che Riley potesse arrivare a questo punto quindi è una storia veramente triste che fa davvero arrabbiare e come al solito voglio sapere che cosa ne pensate voi lasciatemi un commento mettetemi un like se questo caso vi è piaciuto diciamo vi ringrazio come sempre del supporto vi ringrazio di avermi guardata ascoltata e ci vediamo la prossima settimana con un altro video ciao